Buonasera e benvenuti al circolo sportivo ciriaci dove per la seconda di campionato si affrontano Ragnatela Pub ed Eurobet. Calcio d'angolo, palla per Garofalo, attenzione Garofalo non ci pensa due volte! Il vantaggio dell'Eurobet nei primi minuti di gioco, il tiro con il destro del numero 3, 1-0 Eurobet. Dovidio supera la linea mediana del campo, avanza Dovidio le finte, Seminella panico poi toccato, calcio di punizione. Cosimi sul punto di battuta, va lui Danversa con il tacco! Che gol dell'Eurobet, il raddoppio dei rosa-nero grazie al gol, al preziosismo di Tommaso Danversa. Ragnatela Pub in avanti, avanza sulla corsia sinistra Lani, poi Placido va alla conclusione. Ragnatela ancora sulla sinistra, ancora Lani, mette il cross dentro, la tocca paresce, poi il tocco sfortunato di Garofalo. Accorcia le distanze quindi il Ragnatela Pub. Calcio di punizione per l'Eurobet, Dovidio la mette dentro, arriva Danversa che si coordina. Rimezza laterale, pallone per Danversa, la controlla, il palleggio si gira, messo giù, calcio di punizione. Cosimi sul punto di battuta, può andare lui col destro! Riallunga l'Eurobet, 3-1, il gol di Manuel Cosimi, il numero 7 dei rosa-nero. Dovidio, avanza Dovidio, splendida la partita del numero 11 rosa-nero, l'appoggio per De Marco, che da due passi fa secco ripani per la quarta volta. Eurobet in completo controllo del match. Lani sulla corsia di sinistra, vince un rimpallo, l'appoggio per Fatone, cambia fronte di gioco, va a destra. Il tiro messo in mezzo, poi Cuda, attenzione, da due passi! Calcio di punizione sul punto di battuta, Morezzi la tocca per Lani, salvataggio sulla linea, si salva l'Eurobet. Apolloni, Dovidio, apre a destra per Cosimi, Cosimi può andare col destro, conclusione al lato. Rimessa laterale, siamo nelle battute conclusive del match. Il triplice fischio arriva proprio in questo istante, vittoria in trasferta quindi per l'Eurobet che al Ciriaci batte la ragnatela pub per 4-1.